La Fila delle Competitrici Pupille della giuria come obiettivi puntati su un provino Anche Nita Dover e Umberto Stadaro si mettono a fuoco Nella sera estiva queste ragazze sono come giovani corolle sbocciate tra il lume della luna e l'incandescenza dei riflettori Ce n'è una di cui si dice, peccato, ha un piccolo neo La giuria risponderà, neo di bellezza E con Marisa Valenti, 17enne e vincitrice, figurerà anche lei nei posti d'onore Grazie Grazie